Alle spalle della pesante sconfitta di Taranto, il Pescara vuole ripartire, soprattutto vuole tornare a convincere l'imperativo, battere il Monopoli per difendere il terzo posto insidiato dal Foggia, oltre a Pizzari e Auta anche Raffia e Vergani, squalificato Crescenzi, rientrano Brosco e Milani, Zemmen rilancia Mora e Mediana e Delemona che è preferito a Colai. Nel tridente completato da Merola e Lescano, ma comincia nettamente meglio la formazione ospite, subito alla conclusione con Giannotti, dopo un traversone di Rolando hanno lavorato molto bene i quattro attaccanti della squadra di Giacomo Ferrari, terzo allenatore di una stagione travagliata, in realtà era il vice di Pancaro destituito dopo la sconfitta interna con Giuliano. Calcio di punizione al dodicesimo, il fallo di Milani sul numero 10 Rolando, batte l'ex Pinto e gira di testa alle spalle dell'incolpevole Sommariva, il numero 26 De Santis, difensore centrale della squadra ospite, della squadra pugliese De Santis, scuola Milan, classe 97, ex Ascoli in Serie B, è giocato anche con Lentella. Il calcio di punizione di Pinto è effettivamente squadra troppo schiacciata, quasi all'altezza dell'area piccola, gira di testa molto bene De Santis, difensore centrale che ha sostituito lo squalificato Bizzotto, non vede neanche partire il pallone Sommariva, assolutamente immune da responsabilità in questo caso. Sommariva che poi sarà molto ma molto bravo, decisivo in occasione di un'altra azione della formazione pugliese. Qui ci sono le proteste di Milani per un contatto con Rolando, insomma proteste neanche piuttosto marcate da parte del numero 2 della squadra biancazzurra, lasciamo a voi ogni commento. L'arbitro lascia proseguire, intanto Viteritti palla per Rolando, anzi per Manzari e il destro, una grande conclusione ancora di Giannotti e la grande parata dobbiamo dire del portiere Sommariva che scongiura lo 0-2. Poi delle Monache, siamo al venticinquesimo, palla indietro per Palmiero, la verticalizzazione all'indirizzo di Merola che prova a girare al volo però era in posizione di offside. Qui si fa trovare scoperta la formazione biancazzurra Giannotti, prende il tempo e lo spazio a Cancellotti, protesta vivacemente l'indirizzo del direttore di gara Andreano della sezione di Prato per il fischietto toscano. E' tutto regolare, ha rischiato tantissimo Cancellotti in questa situazione perché si sarebbe trattato di chiara occasione da gol, dunque ci sarebbe stata l'espulsione di Cancellotti, Pescara in 10 con il Monopoli in vantaggio. Invece tutto rimane come prima e qui l'unica conclusione in porta del primo tempo di Merola dopo lo scambio dello stretto con il numero 20 Craia. Bravo Pisseri aiutato poi dall'incrocio dei pali, ci riprova il Pescara nel finale di tempo, qualcosa di meglio però insomma niente di che il tentativo di Lescano a palla bloccata da Pisseri sostituto dell'infortunato Vettorelli. Siamo nel secondo tempo, cambia la partita, cambia il ritmo e il Pescara comincia a pigiare il piede sull'acceleratore. C'è questo tentativo di Craia, anzi l'assist di Craia per Lescano e questo è un gioiello. Il gioiello dopo il recupero palla di Aloy che è stato molto bravo nella circostanza, Aloy che aveva preso il posto di Mora, cambio gioco, Craia alza la testa e poi la grande rovesciata di Lescano. Gol numero 17 per l'attaccante italo-argentino, il pareggio del Pescara. Il quarto minuto della ripresa, 17 gol come Franco Ferrari lo scorso anno, Ferrari che è arrivato a quota 19 con il Vicenza andato a segno anche nella giornata odierna. Rivediamo, insomma, una prodezza di raro pregio, davvero una grande acrobazia. Il gioiello di Lescano, Lescano che quando gioca per la squadra è un piacere vederlo e poi qui la grande conclusione di Delle Monache, Delle Monache con la palla che sfiora il palo sinistro della porta difesa della Pisseri, ancora Delle Monache che sale in cattedra, tre avversari saltati, il suo destro ancora di un soffio al lato, siamo al minuto 53, il Pescara dunque sfiora il raddoppio con Delle Monache, poi calcio di punizione, il fallo subito da Aloy, ancora molto bravo a ripulire un pallore, non lo vediamo dall'azione che ci è stata affidata per commentare, però effettivamente se andiamo a rivedere tutta l'azione, intanto ha munito il numero 25 Vassallo, davvero molto bravo Aloy, la pennellata di Palmiero su calcio franco, il perfetto inserimento di Brosco, il 2-1 del Pescara, il sorpasso, la rimonta, ribalta la situazione, la formazione biancazzurra allenata da Zdenek Zeman, terzo sigillo in campionato per Riccardo Brosco, maglia numero 13, il primo gol quest'anno davanti al pubblico amico, aveva segnato nella trasferta di Agropoli recentemente e poi nel girone di andata, il suo primo gol nella stagione attuale nella trasferta di Torre del Greco, perfetto l'inserimento di Brosco che va ad anticipare tutti, compreso il portiere Pisseri, rivediamo ancora il calcio di punizione di Palmiero, una pennellata, davvero un grande assist, il perretario colpo di testa di Brosco, ci sono timide protesse ma mi pare che non ci sia nulla perché la posizione era regolare, il Pescara continua ad attaccare la rasoiata, il grandesto in realtà di Craia con la palla che simila di un niente, la sinistra della porta difesa da Pisseri, poi ancora Aloy, palla in profondità, c'è Lescano, il suo destro una bomba, un missile, la traversa della porta di Pisseri rischia la frattura, settantasettesimo, dunque ad un passo dal Tris, da un passo dalla doppietta personale, il Facundo Lescano sarebbe stata la quarta in queste otto partite della gestione Zeman, poi c'è il tentativo di Fella con la sfera che viene bloccata in due tempi, dal portiere Sommariva, siamo all'ottantasettesimo, ancora un'azione del Monopoli che prova a reagire, c'è un contatto presunto tale, ma niente di che mi pare, tra Brosco e il numero 7 starita, entrato in corso d'opera è passato al 4-4-2 il tecnico Giacomo Ferrari, poi nel finale Colai è entrato in corso d'opera, si divora un'occasione gigantesca, Davide Merola all'ottantanovesimo, quasi novantesimo nel corso di questa partita, siamo al novantatresimo, tre minuti di recupero, finisce qui la gara tra Pescara e Monopoli, il Pescara batte la formazione pugliese allenata da Giacomo Ferrari 2-1 in rimonta, decisivo però per il terzo posto, il confronto esterno di Picerno in programma domenica prossima alle 17.30, il Pescara basterà il pareggio. Pescara batte Monopoli 2-1.